mi sembra uno schermo da perreta ciò come mai mi ricordo uno schermo da perreta levala, levala ciccone vieni Sandrino dammi l'altro uno su anche il doce, diamo il doce c'è il doce c'è il doce vedete? e gol eeeh sono dietro per me sono dietro per me bravo Luca abbiamo me lo hanno scritto ragazzi si effettivamente ce lo doveva fare un tirondo non ti sali mai non ti sali bene non ti teni bene bravo morro dai ragazzi dai con il ultimo giorno